In galera, finalmente, finalmente, finalmente preso. Matteo Messina De Naro, uno dei boss mafiosi più pericolosi, più ricercati al mondo, catturato dopo anni di lavoro e di ricerche. Una bella notizia per l'Italia per bene, grazie a donne e uomini in divisa, grazie a magistrati, grazie ai giornalisti, grazie ai parenti delle vittime di mafia che non hanno mai smesso di credere nella giustizia. Una giornata in memoria di Falcone e Borsellino e degli eroi che hanno combattuto e hanno dato la vita per combattere le mafie. In Italia, post scriptum, per i cretinetti che ogni tanto durante le dirette, le live, scrivono viva la mafia, viva la camorra, viva la droga. Questa è la miglior risposta che l'Italia per bene dà a coloro che parlano senza collegare cervello e bocca. Una splendida giornata per l'Italia, onesta e per bene.